Il marchio contro la fede, nel creatore, i Kavaka. Gli spiriti delle tenebre sono in mezzo a noi da secoli, sono qua sulla terra come alieni. Dobbiamo restare in guardia in modo da accorgerci quando li incontriamo, nascosti dentro i corpi umani di persone consapevoli o meno, in modo da comprendere dove si trovano e cosa fanno. Perché la cosa più pericolosa per noi esseri figli della luce, Nezarim, sarà quella di essere soggiogati a tali influssi negativi, indotti dalla paura e dallo stress psichico, che tali frequenze immettono nelle persone attraverso gli spiriti alieni che realmente esistono nell'aria tutto intorno a noi. Che l'uomo ci creda o meno, li riconosca o meno, non fa alcuna differenza per la loro reale esistenza. Per questi, spiriti delle tenebre, alieni, sarà importante portare molta confusione nelle menti delle persone e dare false direzioni e speranze in ciò che si è diffuso in tutto il mondo sotto il falso nome di democrazia e libertà, che sono solo fittizie, e per cui gli spiriti della luce continueranno a combattere e ad operare nella giusta direzione per salvare tutti coloro che vogliono divenire figli della vera luce del Hamashia, Yahushua. Sappiamo dalle rivelazioni delle antiche scritture che i corpi umani di coloro che rinunciano alla loro visione egoica della realtà, accettando di cambiare il loro modo di essere e vivere, si stanno preparando per evolversi in modo tale che la vera spiritualità proveniente dall'Altissimo Creatore e Padre Yahweh possa entrarvi e modificare radicalmente i loro comportamenti e la visione del senso della vita sulla Terra. Ma il pensiero materialista tecnologico, la cui diffusione è sempre più ispirata dalle indicazioni degli spiriti delle tenebre, alieni, opereranno in modo da opporvisi con tutti i mezzi materiali tecnologici, scientifici, medici, ecc. Gli spiriti delle tenebre, anche chiamati alieni, ispireranno le stesse vittime umane di cui si nutrono, operanti nei vari settori scientifici, tecnologici, geopolitici e ludici, ad applicare uno stratagemma che impedisca alla mente umana di tendere alle cose spirituali per deviarlo e intrappolarlo verso le cose fisiche, materiali, tecnologiche, che andranno a sostituire completamente i valori spirituali con quelli umanistici e materialistici, fino ad arrivare alla morte della tendenza delle anime umane verso la spiritualità di Yahweh nell'uomo. A breve, attraverso un'altra pandemia procurata, inizieranno a inoculare tutti con una sostanza, che probabilmente è già contenuta nei vaccini di ultima generazione, in modo tale che attraverso questo sistema le persone saranno immunizzate dal virus della fede e non potranno più sviluppare in sé la follia della vita spirituale, follia, ovviamente solo dal loro punto di vista materialistico, tecnologico e scientifico, così si potranno finalmente vaccinare i loro corpi in modo che l'umanità non possa più sviluppare nessuna inclinazione verso sentimenti e idee spirituali su Yahweh, ma crederanno per tutta la loro vita solo alla materialità, alla scientificità e animalità dell'essere umano senza più un creatore divino. Molte altre cose però accadranno a breve sulla Terra, in un futuro molto prossimo. Cose che riveleranno la terribile verità su questa finta realtà materiale e creeranno scompiglio tra le file degli spiriti delle tenebre, alieni e i loro sudditi umani di cui si nutrono. In ciò che sta per fluire sulla Terra come rivelazione finale dai mondi spirituali, è contenuta la protezione e la salvezza per i figli della luce e al contrario per i figli degli spiriti alieni, il terrore e la loro completa disintegrazione, grazie alla vittoria degli spiriti, della luce comandati, dal Re dei Re e Signore dei Signori degli Universi Yahushua. Alleluia.